...con il terzo posto sull'aula, campione di TST con il giro veloce, vince, convince e stupisce con l'artificio per lui. Signori, campione del mondo Italia, 2021 XS, vince il mondiale TST. Signori, signori, dopo tutti i calcoli, dopo tutte le stagioni, TST plan, campione del campionato TST. Scusate per il gioco di parole, per la categoria...